ok, allora mio fratello mi ha mandato un altro video che dice devo assolutamente vedere però è molto più pesante di quello di prima allora, vediamo, mi ha mandato il link quello di prima non era granché, magari questo è meglio si chiama B&M Pain Olympics no Grazie a tutti. Video finito, meglio, molto meglio di quello di prima. Vi consiglio di guardare il video BME Pain Olympics, questo vi piacerà, soprattutto agli uomini. Ciao!